Ce n'é pas de l'amour car nous ne nous battons pas Des ombres riscées et le va 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 au lit avec l'enfant Vale, benvenuta nel nostro Pintrotters Loft Ciao Oggi abbiamo un ospite dalla Puglia Una delle nostre regioni preferite Lo diciamo sempre Infatti parliamo sempre di Puglia E di Ostuni in particolare Dove siamo state nel 2014 È stata un'esperienza bellissima Vale, tu sei una super esperta di moda Sei sempre super fashion Ti vediamo, ti seguiamo Amiamo le tue foto e le tue scelte Vedo che oggi tu indossi un bellissimo outfit Che hai acquistato su Zalando In maniera facilissima Perché Zalando permette veramente di acquistare Con due click di ricevere i prodotti dopo due giorni Io ogni volta che acquisto dopo due giorni arrivano perfetti a casa E nel tuo caso hai voluto proprio scegliere uno stile che è di tendenza proprio adesso Raccontaci cosa hai acquistato Allora ho acquistato questo abito che è diciamo autunnale Però comunque rimane abbastanza leggero nei tessuti E poi amo la fantasia con i fiori Perché riprende appunto questo stile molto boh style Fino agli anni 70 Anche la manica un po' ampia Sia da giorno che da notte Molto stile Purtroppo potrei sempre utilizzarlo per un coppia e parte Sì assolutamente Poi dipende dalla scarpa che uno decide di indossare Allora non ci rimane che vedere il tuo outfit completo Magari andiamo a fare un giro all'aperto Vicino qui al nostro bosco verticale dove siamo qui a Milano Così vediamo il tuo outfit completo E consigliamo alle nostre amiche di fare anche un po' loro di scouting Su Zalando.it e acquistare le nuove tendenze 2016-2017 Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti